Cosa succederà nelle puntate del Paradiso dal 16 al 20 gennaio 2023? Scopriamolo assieme. Veronica decide di riprendere il lavoro al Paradiso quando anche Palma si mette alla ricerca di un nuovo lavoro. Nel frattempo Don Saverio decide di ostacolare la proposta di Perico a Clara per iscriverla a una gara dal premio importante. A proposito di premi, Vittorio ne ha appena vinto uno grazie alla sua campagna pubblicitaria con protagonista la bella Matilde. Il problema, tuttavia, è che Vittorio si rifiuta di andare a ritirarlo. Su Consiglio della saggia Adelaide, Matilde decide di riconciliarsi con Vittorio trovando il mondo più giusto per riuscire a convincerlo a ritirare il proprio premio. Più tardi, Francesco decide di tenere segreta la sua vera ambizione. Marcello rimane col cuore spezzato quando viene a sapere del fidanzamento ufficiale di Ludovica. Vittoria, invece, per Torrebruna e Umberto, mentre Barbieri si decide a prendere una decisione davvero importante per il suo futuro. Proprio a questo proposito, Salvo decide di aprirsi e confessare ad Armando tutti i suoi dubbi e pensieri per Marcello a un passo ormai dal trasferirsi in Australia. Per impedirglielo, Ferraris è pronto a giocarsi il tutto per tutto con un'inaspettata confessione. Marcello, però, non cambia idea sul suo viaggio in Australia, decisione che porta così Armando a chiedere l'intervento immediato di Adelaide. Anche Ludovica, venuta a sapere di questa notizia, deciderà di avere un confronto col ragazzo. Dopo il suo incontro con Adelaide, Marcello non sa più se partire o restare. Nel frattempo Maria è raggiunta da un'idea brillante da proporre per la collezione di abiti da sposa. Per farlo, però, la donna ha bisogno di trovare maggiore ispirazione. Non finiscono invece i problemi per Matilde che, alle prese con una consegna problematica, rifiuta l'aiuto di Tancredi scegliendo invece una soluzione più vicina allo stile del suo direttore Vittorio Conti. Ottime notizie per Francesco che è finalmente stato assunto da salvo in caffetteria. L'intera famiglia Colombo festeggia inoltre per l'acquisto del capannone dove l'attività di Ezio farà la sua fortuna. Nel frattempo Marcello prende la sua decisione. Accettare la proposta di Adelaide che gli offre una quota sulla vendita di Palazzo Andreani e non partire più, con grande sollievo da parte di tutti. Nel frattempo Irene assiste a un momento di grande vicinanza tra Alfredo e Don Saverio, rimanendone piacevolmente colpita. A non essere invece affatto soddisfatta di ciò che vede è Veronica, che, dopo aver scoperto la complicità tra Ezio e Gloria, è presto assalita da nuovi dubbi. Colpo di scena quando più tardi Vittorio decide di accettare la nuova proposta di lavoro in una casa automobilistica sancendo così il suo addio al paradiso. Come la prenderà Matilde? Cresce intanto la gelosia di Tancredi quando si ritrova ad assistere a una telefonata tra Matilde e Vittorio. Poco dopo ci pensa Umberto a rassicurarlo con la sua nuova soluzione per riuscire a mettere fuori gioco Conti e il suo paradiso. Tutto questo potrà avvenire solo grazie all'acquisto di Palazzo Andreani. Più tardi Armando si trova nei guai con Don Saverio che ha appena visto Clara e Alfredo scappare insieme il bicicletta. Per il loro bene, Armando sarà costretto a coprirli. Più tardi Gemma e Veronica concordano sul fatto di dover al più presto cambiare atteggiamento nei confronti di Gloria. Per questo, Veronica pensa bene di invitare l'amoro a cena a casa sua. Sarà l'arrivo di una telefonata improvvisa a cambiare il corso della serata. Marco sta tornando a Milano. Colpo di scena anche quando, poco dopo, Vito e Maria si fermano sul ballatoio di ritorno da una serata trascorsa insieme. Ma ecco che proprio sul momento clou l'arrivo di Francesco impedisce quel bacio tanto atteso e sperato da tutti. Per non perdere le prossime anticipazioni iscriviti al canale. Grazie. 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 Grazie.